domani è lunedì 15 dicembre la chiesa fa memoria di santa regginia centurione braccelli le previsioni meteo di tele nuova benvenuti il tempo si fa più instabile al centro nord per l'avvicinamento di una bassa profissione dalla spagna verso la sardegna più nubi e piogge riguardano per tutta la giornata buona parte del settentrione del medio alto tirreno soprattutto la toscana localmente in noda dell'acce l'umbria la nuvolosità si intensificherà anche sul resto della penisola durante la giornata con locali piogge solo sui settori ionici va meglio in sardegna attenzione in nottata peggiora in maniera sensibile sul medio alto tirreno con rovesci temporali anche forti tra l'ovest della toscana e l'ovest del lazio una nuova perturbazione si avvicina alla campagna come all'italia centro settentrionale attivando un nuovo flusso di correnti umide meridionali che porterà un aumento delle nubi sulla nostra regione ma anche sulla medio basso a sicilia e parzialmente sulla calabria con possibilità di duboli fenomeni perturbazione che nei prossimi giorni della settimana entrerà maggiormente destinazione su tutto il sud comportando rovesci temporali soprattutto su campania ovest sicilia marginalmente est sicilia e calabria le temperature saranno in calo ma lentamente torneranno ad aumentare soprattutto in quota e nei valori minimi verso la fine della settimana grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti